Allora senti, io mi sono fatto da poco la terza dose per Pfizer, allora ha gente, cioè qualche coglione che mi dice ah no ma tu ti sei fatti in oculari, ma tu non sai quello che ti mettono dentro e tu te sei stronzate qua ma io voglio dire una cosa, ma a parte il fatto che quando ho fatto il militare a visita medica che ci hanno messo tutti in fila c'erano tre soldati con tre siringoni, voglio dire non è che se siamo fatte tante domande ma poi quello, poi un'altra cosa, mi sono pippato pure Criston Croce con la roba che è venuta in Italia ad entrare al culo del peruviano per 72 ore e i problemi mi sono fatti, mi sono mangiato i peggio panini da Ozzosone dopo che magari mi sono andato a fare i bocchini a pelle da qualche negra, a farmi i rotogliatti e ora mi sono andato a fare le cose, ma che cazzo sto a dire, ma vaffanculo, andate un affanculo tutti quanti mi avete rotto di coglioni